Ciao buon lunedì, eh sì buon lunedì. Chissà perché le persone non amano il lunedì, in realtà dovrebbero trovare la bellezza in ogni cosa che fanno. Anch'io quando lavoravo in banca il lunedì andavo ok, però magari pensavo che la sera si è andato a vedere un concerto, avevo scritto un articolo. Trovare sempre il bello in ciò che fai. Però mi viene in mente una canzone, una canzone I Don't Like Mondays. I Boontown Rats di Bob Geldof, prima che lui facesse il Band-Aid, l'Iveid eccetera arrivarono prima in classifica con I Don't Like Mondays. Geldof, per scrivere la storia di questo brano, si ispirò a una ragazza, Brenda Spencer, che nel 1979 entrò in una scuola elementare di San Diego, sparò 30 colpi, tolse la vita a due adulti e ferì credo otto studenti, otto bambini e quando la polizia l'arrestò le chiesero ma perché l'hai fatto? E lei rispose I Don't Like Mondays. Era un lunedì, non gli piacevano i lunedì. Ma veniamo a noi, settimana molto molto impegnativa, alcune cose le vedrai perché ne godrai poi, ad esempio oggi pomeriggio vado a casa dell'attore comico e ultimamente anche cuoco Vito e faccio un interesse con lui. Però stasera pubblicherò alle ore 21, io tutti i giorni intorno alle 21 pubblico un video, uno anche verso le 13, comunque su YouTube, un video che però è già da tempo su redroni.tv, abbonati redroni.tv. È il reportage dove ho documentato la cena, i discorsi che abbiamo fatto durante la cena alla Darsena del Sale con Alessandro Meduzzi, l'avvocato Linda Corrias e Marina Tonini. Questo oggi, stasera, lunedì, domani sera. Domani sera farò un esperimento perché prima di spezzarne in varie parti, l'intervista di due ore e mezza con Massimo Mazzucco che da alcuni giorni è integrale, senza pubblicità e senza censure, capirei domani sera, è su redroni.tv. Dico domani sera la vedremo insieme, sarà una premier video, quindi significa che tutti guarderemo contemporaneamente quel video, ci sarò anche io a guardare, Massimo Mazzucco, risponderemo ai post, alle domande che verranno fatte durante le due ore e mezza della visione, qui c'è questa prima visione, dopodiché sarà spezzata in varie parti sparsa su YouTube. Fra l'altro ho pubblicato ieri una clip di Gaspare De Lama dove racconta quello che gli extraterrestri stanno facendo per noi. Meditano dentro il sole, sono nella terra cava, alcuni sono incarnati, sono tra di noi, ci puoi credere o non ci puoi credere, però lui, Gaspare, a 102 anni ha avuto dei contatti frequenti, era nel caso amicizia, W56, fine anni 50. Quindi domani sera, Mazzucco. Mercoledì, mercoledì riguarderai in futuro, andrò a casa di Fiorella Belpoggi, una scienziata, era direttrice dell'Istituto Ramazzini, parleremo di frequenze e di tante altre cose interessanti. Giovedì 14 alle ore 21, prima diretta della nuova stagione di Lespentunite Together. Non durerà tre ore, io dico sempre così poi alla fine, perché il giorno dopo devo partire presto la mattina. Mi collegherò anche con Marina Tonini, se riusciamo anche con l'Abate Vissarione, che sarà all'OM e che io incontrerò venerdì. Quindi venerdì andrò a incontrare l'Abate Vissarione e faremo con lui delle cerimonie. Lui è anche un esorcista e tutti noi abbiamo qualcosa dentro di retaggi del passato, di vite passate. Comunque sarà interessante. Documenterò chiaramente un'intervista. Sabato invece ci vediamo sul Lago di Garda a Torre del Benaco. Ci sarà l'OM. A questo OM parteciperanno chiaramente Marina Tonini, che è il Deus ex Macchina, Luca Donini, Vissarione Calogeridis, l'Abate di cui parlavamo, Bernard Rusch, ci sarò io, Gaspare De Lama, Giulietta Bandiera, Christian De Lord, Pier Giorgio Caria, Filippo Destrieri, Sonia Benassi e Marco Luzzatto. Marco Luzzatto perché? Perché lui ha queste macchine, queste macchine fotografiche speciali che fotografano le entità e siccome avremo un maxischermo, perlomeno stiamo lavorando per avere un maxischermo, saranno proiettate nel maxischermo. Il maxischermo serve anche perché la spiaggia di Torre del Benaco non è certo larga come quella di Rimini, però è lunga e quindi anche da lontano si potrà vedere. Fra l'altro per chi non verrà o non potrà venire faremo la diretta. Verrà Filo, verrà Marchino, quindi andremo in diretta. Andremo in diretta per tutta la sera e quindi è una cosa importante. Insomma, settimana direi molto impegnativa, no? Quindi noi ci vediamo. Il primo appuntamento, che puoi vedere delle cose se non le hai viste su redone.tv, è stasera con la cena alla darsena del sale, Alessandro Miluzzi, avvocato Linda Corrias, Marina Tonini. Domani sera l'evento speciale in premier video due ore e mezzo insieme a Massimo Mazzucco. Intervista chi l'ha vista su redone.tv, è impazzito, fantastica. Poi dopo ci vedremo giovedì sera con l'Espentolai Together, sabato sera con l'OM in diretta. Buona settimana. Ciao.